Sono molto contento di essere arrivato qui a Pineto e voglio ringraziare la società perché questa è una grande opportunità per me. Ho scelto Pineto perché da tanti anni che sto qua in Italia e ormai conosco bene come funziona qua e mi hanno parlato molto bene. Sono arrivato tre anni fa a Pescara e da lì ho cominciato a fare il mio percorso qua in Italia. Speriamo che in queste partite possa fare anche gol, ma comunque l'importante qua è vincere. Sono stato sempre attaccante, ma qua in Italia ho iniziato a fare pure i tre quarti e mi trovo molto bene tra le linee. Giocare in mondiale con l'Argentina. È facile dire Messi come argentino. L'italiano sinceramente non ho pensato mai un giocatore italiano, però come argentino Messi. Sì, 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 con Enzo e anche con Pierpaoli che abbiamo giocato insieme a Pescara, però tutti quanti mi hanno accolto molto bene. Sì, siamo molto contenti con Enzo Galliano perché oggi abbiamo vinto 1 a 0, quindi contro Minozzi e Bucaro che sicuramente vogliono subito la rivincita a calcio a tennis. Penso che sarà come tutte le partite, è difficile da affrontare, ma noi siamo convinti di quello che dobbiamo fare. Un saluto grande per i tifosi e aspettiamo di continuare così. Un saluto grande per i tifosi e aspettiamo di continuare. Grazie. Grazie a tutti.